Presidente Forceri, mi dice che cosa rappresenta da un punto di vista economico una realtà portuale come quella di La Spezia per il territorio stesso? Rappresenta la prima attività economica del nostro territorio, con circa 2.500 lavoratori tra diretti e indiretti, più tutta l'economia che ci sta attorno. Rappresenta un volume d'affari delle imprese pari a circa 180-190 milioni di euro all'anno, rappresenta una realtà importantissima che noi siamo tutti chiamati a difendere e a sviluppare, migliorando nell'efficienza e la competitività, visto che il nostro è un porto efficiente e competitivo, può svilupparsi e crescere proprio nella misura in cui aumenta, cresce questa efficienza e questa competitività. Porto si pensa al mare, navi, ma c'è anche il ferro, insomma voi siete una realtà che condivide questi due aspetti di movimentazione e di logistica che è una qualità abbastanza interessante? È uno dei nostri primati, abbiamo il trasporto ferroviario che supera il 30% delle merci movimentate, quando la media nazionale è intorno al 10%, compreso il nostro 30% naturalmente, e quindi il nostro obiettivo è quello di andare al 50%, quindi di avere una forte intermodalità, un contributo all'ambiente, le merci che viaggiano su ferrovia producono meno CO2, meno inquinamento, eccetera, e nello stesso tempo è il modo, così come ha detto anche il Ministro del Rio, di sviluppare il sistema logistico del nostro paese puntando sulla ferrovia. Noi siamo pronti da questo e vogliamo crescere anche in questo settore, anche nel trasporto multimodale e nei sistemi logistici. Stiamo parlando di un grande valore in termini di imprese, grandi, piccole, medie, in termini di volumi d'affari, in termini di numero di occupati, in termini di grande patrimonio infrastrutturale non soltanto nostro ma del paese. E' stato fatto un calcolo, lo dico come mi è stato riportato, parliamo di circa 180 milioni all'anno complessivi di volume d'affari, di cui circa una trentina, 28 milioni di aereo, quello dell'autorità portuale. Parliamo di un'occupazione di circa 2.500 lavoratori e parliamo di una situazione che sia per quanto riguarda il volume d'affari che per quanto riguarda i lavoratori, se fossero rapidamente approvate e realizzate alle opere previste, potrebbero salire di diverse decine e forse centinaia di milioni e passare i lavoratori dagli attuali 2.500 ai circa 3.500. Quindi parliamo di un grande patrimonio, patrimonio non soltanto di coloro che si, ma proprio un patrimonio, io credo, della città, del nostro territorio, della nostra regione e anche del nostro paese. E credo che vada affrontato in questi termini. Il nostro porto è stato anche oggetto di studi come quello dell'IUC, l'Università Cataneo, è stato più volte citato dallo stesso attuale ministro del Rio come porto di riferimento. Allora quali sono le ragioni di tutto questo, di una considerazione complessivamente positiva di quello che viene realizzato nel nostro scalo? Io credo che non si possa parlare di un'unica ragione, ma di un insieme di fattori oggettivi e soggettivi che opportunamente dosati e combinati tra loro producono questo risultato. Tra i fattori oggettivi c'è senz'altro la collocazione geografica, le caratteristiche meteomarine che lo rendono uno dei porti più protetti e sicuri dell'intero Mediterraneo, non soltanto del nostro paese, garantendone sempre l'operatività. Sono le stesse condizioni favorevoli che oltre 160 anni fa lo hanno fatto individuare come il posto ideale per realizzare un porto strategico per la marina militare, una grande base navale, un arsenale di manutenzione e riparazione. Ma se proprio vogliamo azzardare una suggestione, possiamo dire che il porto è il primo e più grande importante risultato del grande processo di riconversione dal militare al civile di questa città. Si passa da un grande porto militare, per anni il primo, per anni l'unico e per tanti altri anni il primo porto militare del paese, ora non più, ad un importante porto commerciale che non è il primo, ma che per certi aspetti, vicino a Genova non ci potevamo permettere questa ambizione, ma che per tanti aspetti è un porto importante che si è via a diventare più grande, soprattutto più efficiente e competitivo. Un porto mercantile, che fino a tre anni fa era un porto esclusivamente mercantile, che, come ho detto, grazie all'intuizione di alcuni imprenditori, anzi di imprenditrici, che ha aperto questi lavori e al lavoro che stiamo portando avanti, ha avviato un importante processo di diversificazione verso anche un porto passeggeri. Anche qui segnando in qualche modo e guidando, io mi voglio sottoporre queste suggestioni che mi sono venute mentre pensavo a questo convegno. Dicevo avviando e segnando in qualche modo guidando la trasformazione in senso turistico della città, fino a pochi anni fa una città esclusivamente industriale. Il cambiamento viene dal mare, se posso fare questa parola, si potrebbe quindi dire, e non sorprende quindi anche però che tutti quelli che si oppongono al cambiamento e si oppongono anche al porto e al suo sviluppo. Un'altra ragione di successo è stata detta, però lo voglio sottolineare, è la professionalità e la competenza di tutti gli operatori, a partire dai terminalisti, dei piloti, gli ormeggiatori, i morchiatori, i spedizionieri, i agenti marittimi, gli operatori del trasporto, anche agli enti e le istituzioni pubbliche che sul porto e nel porto vivono il lavoro, a partire dalla capitaneria di porto, dalle dogane, la guardia di finanza, la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, alla sanità marittima e tutto quanto appunto c'è sia di privato che di pubblico, ma il patrimonio più grande, come già stato detto, è quello relativo alla capacità che questo porto ha sempre avuto, che questa comunità ha sempre avuto di fare sistema. Grazie a tutti.